Terzo appuntamento con l'horror, iniziamo! Ciao a tutti, bentornati su Recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm. Nella puntata di oggi trattiamo il terzo appuntamento di quelli che vi avevo promesso essere un po' questi film horror che ci accompagnano un po' in questo tema halloweenesco che c'è in giro. È l'ultimo appuntamento, infatti come vedete non ho pubblicato domani come sempre che è il venerdì, ma il 31 proprio perché è il tema di queste puntate. Torneremo a pubblicare normalmente di venerdì, ma non torneremo sull'horror fino, suppongo, alla puntata che poi dedicheremo completamente alla seconda stagione dei piccoli brividi. Seconda stagione che se non sbaglio dovrebbe uscire a fine gennaio, inizi febbraio, quindi più o meno a San Valentino noi torneremo nell'ambito degli horror. Oggi invece tratteremo quindi il terzo film di questa serie, piccolina, che ho voluto quindi dedicare a questo genere. Ritorniamo a parlare di un horror un po' più psicologico rispetto magari a quello che abbiamo visto nella prima puntata. È un film che è stato presentato al Toronto Film Festival a metà settembre di quest'anno, del 2024, poi è uscito sulle varie piattaforme di streaming a ottobre, ai primi di ottobre. Sto parlando di Hold Your Brief, cioè Trattieni il fiato. Anche se a quello che ho capito non era il titolo originale di questo film, ma è stato cambiato in corso d'opera, non ho trovato il nome originale, quindi non vi so dire. Mi sarebbe forse piaciuto il titolo L'Uomo Grigio, però non so, poi mi dite voi, non voglio spoilerare troppo. Rispetto agli altri film direi che questo funziona decisamente meglio, ma come al solito facciamo le cose con ordine e andiamo di pari passo mettendo tutto in fila. Così spero da non perderci niente. Siamo in un'ambientazione che è completamente diversa rispetto a quello che abbiamo visto nei due film precedenti. Siamo quasi, possiamo dire, proiettati molto indietro nel tempo, infatti siamo nel 1933, se non sbaglio, in Oklahoma, in quello che si può definire quasi un villaggio di frontiera, una realtà di frontiera. Infatti quello che vediamo ha tanto il sapore e un po' il sentore ancora di quelle comunità un po' più western. Infatti non possiamo definirla una vera e propria cittadina, non possiamo definirlo un paese, quasi più un villaggio, nel quale le casette che sono costruite, che appunto raccolgono le varie famiglie, sono quasi tutte affiancate poi da una fattoria, da vasti campi e terreni e quindi sono tutti un po' isolati l'uno con l'altro. Ma poi si riuniscono tutti quanti proprio come le comunità di un tempo e si riuniscono un po' nei soliti luoghi tipici un po' di questi racconti di confine, che possono essere il saloon, il bar, ma anche lo spaccio e anche ovviamente la chiesetta ovviamente protestante. Protagonista è una famiglia in maniera particolare perché è attraverso la famiglia che quindi entriamo in questo racconto. Il capofamiglia però non si vede mai, si sa che si è dovuto allontanare come la maggior parte degli uomini di questa cittadina perché appunto dovevano un po' sbarcare il lunario, trovare lavoro e così sostenere le proprie famiglie. E il papà marito di questa famiglia praticamente non è diverso dagli altri proprio perché va fuori molto lontano in cerca così di danaro. Tutte le responsabilità a casa ricadono su Margaret Bellum, che è appunto la mamma, la moglie di questa famiglia, che si occupa non solo quindi delle sue due figlie, Rosie e Holly, ma anche un po' di tenere sotto controllo e di governare così la casa. Casa che deve essere governata ogni giorno per buttare fuori la polvere. La polvere è la costante di questo racconto, è la costante di questo film ed è anche la minaccia costante che un po' caratterizza poi tutta la routine di questa società. In questo inizio di racconto abbiamo così la presentazione non solo della famiglia protagonista ma anche di quella che è un po' la società che circonda la famiglia in cui la famiglia è inserita, ma anche quindi tutti i problemi sociali, politici che fanno parte quindi di questo racconto e che attraverso propri personaggi ci vengono raccontati uno dietro l'altro con un ritmo veramente molto intenso, molto denso, che quindi fa aprire il racconto e ci fa entrare molto lentamente ma allo stesso tempo con una certa abitudine all'interno di questa scena perché lo facciamo proprio attraverso quella routine di cui vi dicevo. La donna di questo racconto, Margaret, ma anche tutte le altre donne di questo villaggio praticamente fanno quasi tutte la stessa cosa ogni giorno. Nel caso di Margaret la troviamo combattere la notte con degli incubi che la perseguitano all'interno, avvolta all'interno di una tempesta di polvere, poi il risveglio al mattino sempre un po' traumatico, il governare la casa togliendo la polvere, spazzando, occupandosi anche del bucato e poi andando a mungere la mucca nella fattoria. Di tanto in tanto questa routine si spezza o comunque si rinfoltisce con degli appuntamenti che sono un po' cadenzati all'interno di questa settimana, di questo tempo. Praticamente vanno all'interno di questa chiesetta dove non c'è neanche più il pastore ma si riuniscono lì tutte le donne per ricamare. Ma il ricamo un po' è il passatempo perché l'attività principale è un po' l'aggiornarsi tra di loro di quelli che sono i fatti che accadono in quella bolla che è il loro villaggio e invece quello che viene ad accadere al di fuori di questa bolla attraverso i resoconti dei loro vari mariti. Vengono così introdotti anche i vari personaggi ovviamente senza andare forse troppo nello specifico di ognuno di loro ma costruendoli attraverso i dialoghi quindi attraverso il confronto che c'è e il botta risposta che c'è tra di loro andiamo a capire un po' come sono fatte le famiglie, quali sono le necessità di ognuno di loro e quindi anche un po' la stanchezza e il fatto che combattere con questa polvere diventa difficile e stare lontani dai mariti è sempre più complicato. Si crea così al tempo stesso quello che diventa un po' il leggendarium di questo racconto che così aiuta anche a dare forza a quanto viene detto a differenza forse degli altri due film che abbiamo visto qui il leggendarium si basa su un racconto che si scambiano le figlie di Margaret e che dalla carta e dall'inchiostro passa e si trasmette alla realtà. E' questo un passaggio che in realtà non accade perché ciò che c'è nel libro non è che si trascina nel mondo reale ma ciò che c'è nel libro racconta invece ciò che c'è già anche nella realtà il che diventa ancora più inquietante caricando quindi in tutto questo racconto anche una certa dose di mistero di cupezza di fascino che viene inserito ma ovviamente anche di tensione per quell'ignoto che praticamente viene allontanato costantemente che però costantemente ritorna. Proprio in questo tema un po' in questo modo di raccontare si aggiunge anche quella che è la nota più horror di questa storia soprattutto la nota di questo horror più psicologico rispetto agli altri che abbiamo visto perché raccontando i personaggi e quindi le loro pulsioni le loro ferite il loro passato sostanzialmente si fa spazio anche a questo ignoto e a questo mistero che non riguarda solamente una persona o una famiglia o pochi personaggi ma riguarda tutto il paesino tutto il villaggio rimanendo quindi fedeli a quello che è il contesto storico si introducono anche delle figure diverse rispetto a quelli che sono i personaggi tipici di questo villaggio molto ben caratterizzati possiamo dire anche in un certo senso un po' stereotipati soprattutto nei ruoli femminili in cui vengono raccontate queste donne si aggiunge quel vagabondo misterioso che si aggira per il paesino e anche di quei predicatori un po' santoni che con il tocco della mano guariscono e che però al tempo stesso sono raccontati come quei personaggi di cui non ci si riesce a fidare nell'immediato e in questa diffidenza alle volte si alterna invece con quell'alone di mistero che diventa quasi un po' la speranza a cui molti vogliono aggrapparsi per riuscire quindi a fuoriuscire da quella situazione che stanno vivendo in un'ora e mezza in cui questo film si svolge in cui i fatti accadono il racconto si fa veramente molto denso e sono molti gli elementi che fanno ritornare quindi questo sapore di horror molto più che nei film che abbiamo visto sinora perché sono degli elementi che si rifanno al modo in cui le storie vengono raccontate e soprattutto al modo in cui tra una scena e l'altra si agganciano tra di loro quindi possiamo dire che grazie anche ai cambi di scena molto repentini molto forti quasi a colpo di frusta a dei suoni molto forti a delle urla e effetti speciali si dà molto quella tensione quella carica anche emotiva che fa saltare dalla sedia e soprattutto fa battere molto il cuore per cui si carica tantissimo la sensazione di un qualcosa che sta per accadere e quella tensione che smuove lo spettatore andando a influenzare lo spettatore stesso in modo da fargli tenere un po' il fiato in sospeso nell'attesa che qualcosa possa accadere all'improvviso ma alle volte anche tirando molto la corda facendogli aspettare che qualcosa accada alle volte senza far accadere nulla alle volte invece facendo precipitare le cose ancora più interessante il fatto che poi tutto questo quindi tutto quello che accade coinvolge molto i personaggi andandoli a rovinare tantissimo infatti le conseguenze del racconto e dei fatti che accadono vanno a incidere molto sulla psicologia e sulla psiche di questi personaggi rovinandoli abbruttendoli coinvolgendoli in tutto il loro insieme quindi non solo il lato emotivo ma anche il riflesso nella nel fisico e quindi anche come si trasformano lungo la storia dando loro così molta credibilità e aumentando al tempo stesso quella dose di mistero che così condisce ancora di più questo legendarium rendendolo quindi molto più percepibile molto più apprezzabile all'interno del film creando al tempo stesso quella suspense che è tipica dell'horror psicologico soprattutto in cui le cose partono in parte dai personaggi e dal loro vissuto e poi si scatenano un po' come effetto domino tra i vari personaggi elemento particolare che in questo film è un po' una presenza costante sin dall'inizio è la polvere la polvere che viene raccontata come quelle particelle sottili piccolissime e leggerissime che svolazzano nel cielo nell'ambiente che si vedono illuminate da quel fascio di luce del sole che passa nelle fessure tra le pareti della casa e che sono un po' quella presenza costante quella minaccia che fa ricordare a cosa si può andare incontro quindi è quella polvere che silenziosa si deposita sulle superfici che quindi prende consistenza peso proprio per la minaccia che rappresenta che è da tenere quindi fuori casa e soprattutto fuori dai propri polmoni che pesantemente si deposita e che quindi aumenta il proprio pericolo come quell'elemento un po' corrosivo che porta addirittura al soffocamento e a ricoprire tutto e tutti e quindi porta alla morte viene raccontata quasi come se fosse un essere sensiente come se avesse chissà quale pensiero dietro i suoi movimenti i suoi spostamenti e questo raccontarla come se fosse una creatura vivente non fa altro che aumentare ancora di più la tensione perché non si sa cosa bisogna aspettarsi dalla polvere stessa tutto questo carico di paure di nefandezze che la polvere porta con sé si trasmette dai personaggi allo spettatore e così è veramente molto coinvolto in questo racconto un racconto che vede la paura della polvere passare da un qualcosa di esterno al corpo dei personaggi a un qualcosa di interno che può quindi minacciarli costantemente e che quindi si trasforma in quella paura che non fisica diventa minaccia fisica e che diventa soprattutto minaccia nella psiche dei personaggi quel chiodo fisso costante che fa rincorrere la paura su se stessa e che quindi fa modellare il pensiero dei personaggi in base a questa paura fino a far perdere loro ai personaggi stessi la testa ed è proprio quindi questo elemento della polvere a rendere questa storia un horror psicologico che funziona benissimo che non si rifà quindi a nessuno spirito a nessuna presenza ultraterrena legata quindi a demoni e possessioni e che quindi porta a lavorare nel personaggio fino alla propria distruzione ed è quello che praticamente accade a margaret la mamma di queste bambine che si lascia sempre più coinvolgere da quello che accade nel villaggio mentre infatti si rincorrono le paure aumentano le paranoie all'interno di questa donna la realtà viene obnubilata nascosta da quel velo che è proprio la polvere a creare e che dalla tempesta fuori casa si trasforma in una tempesta all'interno della mente di margaret aumentando quindi quelle che sono le scene in cui c'è una grandissima confusione mentale in cui quindi la realtà scompare e al suo posto appare quella che è una confusione sempre più irreale sempre più fantastica che però porta a sentirsi sempre più minacciato e quindi ovviamente a dover reagire per autodifesa e per difendere la propria famiglia fino quindi a portare in definitiva a quel precipitare degli eventi che ovviamente ormai hanno completamente stravolto il quotidiano e quindi la routine sempre uguale perfettamente identica a se stessa di giorno in giorno di margaret con questa minaccia questo mistero e queste paure che ormai l'hanno completamente sopraffatta e si arriva a un finale nel quale ormai a prendere un po le redini di quello che sta succedendo è per forza di cose la primogenita rosy che tenta di sopraffare la madre per liberarsi e per liberare la sorellina e per arrivare quindi a cercare la salvezza noi quindi attraverso rosy e attraverso il suo piano vediamo quanto è struggente il legame che lega quindi mamma e figlie e anche allo stesso tempo quanto sia difficile per rosy arrivare a quella scelta e a quel modo di comportarsi tanto da creare una specie di tira in molla che non fa altro che aumentare ancora di più la tensione e che ovviamente trasforma il rapporto tra le due donne raccontando quindi quanto diventi inquietante questa scelta di rosy e soprattutto come tutto questo si trasformi poi in quel dolore che ormai è facile capire percepire come verrà trasformato nelle azioni della ragazzina fino a vederla quindi finalmente compiere quello che non si sarebbe mai dovuto compiere e il modo con il quale quindi la mamma reagisce a tutto questo e lei la bambina reagisce a tutto questo trasforma tutto ciò ancora in un qualcosa di più struggente ancora se possibile diventa tutto molto doloroso quindi alterniamo il saltare dalla sedia nel modo in cui viene raccontato tipicamente un horror che funziona a quello che invece è il dolore che si prova attraverso il dolore stesso dei personaggi un po anche lo sconcerto che si prova attraverso margaret nel vedersi quindi al capolinea veramente molto molto intense queste scene ma il vero finale che si viene a presentare dopo questa tensione e quindi dopo la liberazione che rosy opera per se stessa e per la sorellina holly abbiamo l'ultima scena di un treno che si allontana da questa cittadina sempre più impolverata e che lungo i binari via via che i chilometri scorrono sotto i binari il paesaggio si trasforma la polvere scompare si allontana e arrivano i colori delle praterie i colori dei campi coltivati questo verde finora presente solo nei ricordi e nei sogni di margaret diventa la realtà invece delle bambine di margaret che venono così un po avvicinarsi finalmente la salvezza ma nel vagone la polvere inizia a svolazzare e a muoversi come se viaggiasse come un personaggio fisico assieme alle bambine come se quindi la minaccia di quanto accaduto a casa loro possa ripresentarsi possa accadere ancora è un eterno ritorno che viene raccontato come se non ci fosse via d'uscita come se non ci fosse una vera e propria via di salvezza tutto questo rende il racconto che già di per sé lo era ancora più asfissiante ancora più soffocante come se appunto il destino fosse segnato anche se ovviamente le due ancora non se ne accorgono e ancora non se ne rendono conto ma appunto in questo tornare e ritornare degli eventi a compiere sempre se stessi a ripetersi vediamo benissimo e immaginiamo purtroppo molto bene a cosa le due sono destinate e chissà se oltre a loro anche quelli che le circondano o le circonderanno è un film che come si vede a me rispetto agli altri due è piaciuto veramente molto ma è anche un film che ha saputo raccontarsi ha saputo prendere i propri elementi ha saputo quindi anche giocarci molto con le sue caratteristiche forse mi sarei aspettato qualcosina in più su quest'uomo grigio che viene raccontato dai libri che vengono letti alla realtà forse approfondito anche nelle sue capacità o soprattutto in quello che andava cercando perché sostanzialmente resta molto aleatorio un mistero che non fa altro che pompare e far crescere quanto invece poi proposto con la figura di questo vagabondo e di questo predicatore la cui minaccia comunque è forse un po' troppo risicata probabilmente è un pensiero un po' compensativo di quelle che sono un po' i dispiaceri degli altri due film ma che però in un certo senso fa comunque piacere a desiderare e aspettarsi qualcosina in più perché significa che un po' il film ha fatto il suo dovere che quindi è riuscito in un certo senso a raccontarci e a raccontarsi e a trasmettere a noi quella che è la sua fantasia e l'impianto fantastico che crea e che quindi un po' ci coinvolge e ci contamina e ci contagia ancora nella realtà a film finito e questo è un punto veramente molto a favore soprattutto per quelli che sono gli horror soprattutto per gli horror psicologici che secondo me è poi me lo dite voi nei commenti qui sotto se non ci coinvolgono poi nel nostro reale non hanno granché senso invece quei film che ci fanno ancora restare sul kibala una volta finito il film e usciti dalla visione e rientrati nel nostro quotidiano e riescono ancora magari a farci rabbrividire e venire quel freddo dietro la nuca secondo me sono quei film migliori perché ci fanno vedere la realtà con occhi diversi proprio perché ormai contagiati da quel senso di tensione di mistero di un qualcosa che caricato a molla fino a quel momento può ancora accadere ma stavolta nella nostra realtà questo è un punto veramente penso importantissimo per il racconto dell'horror però ovviamente vi aspetto nei commenti qui sotto voi dovete spero vogliate dirmi la vostra fatemi sapere che ne pensate di questo film vi ho proposto prima un film con team vision uno con netflix e uno con disney plus proprio perché speravo di darvi un'occasione più variegata di avere qualcosa da vedere fatemi sapere cosa ha funzionato secondo voi anche rispetto agli altri due film e cosa invece vi aspettavate raccontata in maniera diversa cosa invece ancora non ha funzionato secondo voi e io mi sono solamente illuso che il film meritasse confrontiamoci ditemi la vostra nei commenti qua sotto se poi la puntata vi è piaciuta ditelo cliccando il pulsante del mi piace qui sotto condividetela con i vostri amici iscrivetevi al canale fate iscrivere al canale attivando anche la campanella al lato per ricevere le notifiche di pubblicazione mi trovate in tutti i social network che sono qui sotto nell'info box fate visita anche a www.retrattinocenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani io sono dario questa è recenso e noi ci vediamo venerdì prossimo sempre qui sempre su recenso pronte a sfogliare nuove storie e volare insieme nel mondo della fantasia